L'associazione Il Bertoldo, amici di Sandro Fontana, col patrocinio del comune di Marcheno, ha organizzato quattro serate culturali nella biblioteca di Marcheno, dopo il gran successo della serata di giovedì 6 ottobre scorso col professore Emanuele Freddi, tema la dominazione veneta, la periferia dello stato di terraferma, il caso della Valle Trompia, il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 20 ottobre, Ardengo soffici in guerra, la ritirata del Friuli, tra letteratura e storia con la professoressa Federica Zanoletti, poi giovedì 3 novembre il Fantasy, una porta sulla realtà, con Sara Cremini e Francesco Codenotti, scrittori fantasy, ed ancora giovedì 17 novembre l'Ordine di Maat, alle origini del pensiero matematico, con l'ingegnere Stefano Cadei. L'associazione Il Bertoldo, amici di Sandro Fontana, vuole così ricordare Alessandro Fontana, detto appunto Sandro, nato a Marcheno, Valtrompia il 15 agosto del 36 e deceduto a Brescia il 4 dicembre del 2013. Sandro Fontana è stato un politico italiano, ministro dell'Università, ricerca scientifica e tecnologia nel governo amato e vicepresidente del Parlamento europeo. Sandro Fontana è stato docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Brescia, consigliere regionale della democrazia cristiana e assessore alla cultura della regione Lombardia per 10 anni a partire dal 1970. È il padre dell'attuale simbolo della regione Lombardia. La Rosa Camuna fu infatti sua proposta che fu adottato come simbolo regionale. Tra il 1985 e il 1986 Sandro Fontana è stato vice segretario della democrazia cristiana sotto Ciriaco De Mita. Nel giugno 87 fu eletto senatore per la democrazia cristiana e fu direttore del quotidiano della DC Il Popolo dal 1989 al 1992 sul quale scrisse con lo pseudonimo Bertoldo. Rieletto al Senato nell'aprile 92, Sandro Fontana si dimise nel luglio successivo perché è divenuto ministro dell'Università, ricerca scientifica e tecnologia nel governo amato dal 92 al 93. Caduto il governo tornò alla sua cattedra di storia contemporanea all'Università di Brescia. Successivamente nel 1994 è stato tra i fondatori oltre che esponente del centro cristiano democratico CCD. È stato eletto deputato europeo alle elezioni del 94 chiudendo la campagna elettorale a Desenzano del Garda per le liste di Forza Italia in quota CCD. È stato presidente della commissione per le petizioni, vicepresidente del Parlamento europeo e del gruppo parlamentare Forza Europa, membro della commissione per i diritti della donna, della sottocommissione per la sicurezza e il disarmo, della delegazione per le relazioni con la Repubblica cieca, la Slovacchia e la Slovenia e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione. Nel 1998 divenne presidente del CCD. Nel 2000 fu presidente del Consiglio nazionale del CCD. Sandro Fontana, il Bertoldo a Marcheno-Valtrompia.